salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e ragazzi oggi io ho per voi un premium oro 2 di yugioh come vedete 10 carte, io l'avevo già aperto però non ho visto l'interno poi ragazzi vi faccio vedere prima quelle fuori ho preso drago fotonico occhi galattici lui ed è con il bordo dorato ed è di attacco 3000 ed è di difesa 2500 poi passaggio d'anima questo e poi ho exodius lui andiamo ad aprire adesso il nostro aspettate ragazzi facciamo così no aspettate vabbè allora l'ho aperto ci ho messo un po' di colla per così vediamo oh iniziamo già con una bella cartina non ho mai avuto un premium oro quindi vediamo cosa possiamo trovare e se mi convincerà allora abbiamo questo babbo artigli non ci vedo un tupo babbo artigli 1200 poi abbiamo numero 95 drago materia oscura occhi galattici poi abbiamo non riesco a leggerlo ragazzi drago comunque è un drago e serve per attivare un tuner oscurità e un mostro non tuner tipo drago non ci credo la testa di exodius di exodia ragazzi non sono un esperto con un yugio però nel premium oro ragazzi ho trovato exodia non l'avrei mai detto ragazzi 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 oh la testa vale 30 o 40 euro di exodia e non lo scambio con nessuno ragazzi che fortuna e ragazzi ho guardato nella mia buchetta e credo che non avevo le chiavi per aprire però mi sembra che mi è arrivato anche vegeta e lunedì lo andrò a ritirare perché oggi non ho avuto tempo di venire a casa e scusate se non faccio dei video da un po' di tempo da cioè da 7 giorni da una settimana poi abbiamo re assurdo back jack 0 e 0 ma avrà un effetto molto forte credo poi abbiamo dente di leone questa qui avrà anche lui un effetto credo fortino poi abbiamo serpente sinistro questa qui poi abbiamo scambio dello spirito credo che sia un forte così poi abbiamo una fusione drago 5 teste e abbiamo seppilon il signore del tempo finale ragazzi questo è quello che abbiamo trovato nel premium oro e al primo posto io metterei proprio la testa di exodia non avrei mai giurato di trovarlo ragazzi ci vediamo al prossimo video intanto vi a qual al primo posto metterei drago fotonico e exodius ragazzi e domani forse vado alla bancarella e prendo gli altri cinque pezzi e gli altri quattro pezzi e che costano 8 euro l'uno quindi mettiamo insieme è tutto ci vediamo al prossimo video ragazzi con vegeta e perché sabato domani e dopo domani non credo che farò dei video perché non avrò neanche domani un po' di tempo e neanche domenica perché sarò via credo e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi mettete tanti mi piace e iscrivetevi al mio canale per chi non l'ha ancora fatto votate su i 500 iscritti e poi farò un video speciale se adesso ci sto ancora pensando cosa fare per i 500 iscritti ciao ragazzi come ho già detto votate sui 500 iscritti ciao